Risalgono i contagi da coronavirus in Irpinia altri 15 casi nelle ultime ore che vanno a sommarsi ai 208 contabilizzati solo dal 1 luglio. Il mese di agosto si apre all'insegna dell'allerta sanitaria in provincia di Avellino con 31 nuovi positivi certificati dall'ASL in tre giorni. Sullo sfondo il caos all'ospedale Moscati in allerta per l'emergenza ferie ad agosto. Per questo mese il manager Pizzuti ha dovuto attuare un piano straordinario per le attività con la riduzione delle attività degli ambulatori in più reparti. E si corre ai ripari con l'assunzione di nuovi dirigenti a tempo determinato per il pronto soccorso, il Departimento di Medicina Generale e in particolare per l'Unità Operativa di Medicina Generale del Plesso Landolfi per consentire a medici e infermieri di andare in vacanza soprattutto dopo i lunghi mesi di emergenza sanitaria. Restano in attesa di una certificazione alternativa intanto i volontari del Moscati della sperimentazione del vaccino Reitera. Risultato efficace ma non ancora ufficiale per i protocolli internazionali. Questo è stato un po' la sorpresa, siamo gli esodati del Green Pass, anche se so che in questo momento c'è in una discussione in Parlamento comunque la possibilità di avere da parte del Ministero una sorta di certificazione, però purtroppo la burocrazia in questo momento ci ha tenuto fuori. L'invito del volontario è quello per tutti a vaccinarsi rapidamente. Agli indecisi di fare la scelta giusta che è quella sia individuale che per il prossimo e più ci vacciniamo prima usciremo da tutta questa situazione così assurda e surreale.